Buonasera, elenco dei flash mob ai quali ho partecipato ultimamente. Flash mob del 46. Il tema era il malumore. Eravamo tutti quanti, saremmo stati 300 persone dentro il 46 a Roma e tutti quanti fingevamo di essere arrabbiati e lasci il posto alla signora, non lo lasci, attenta al borsellino, attenta alla borsa, arriva al controllore, Dio aiuta. E poi al capolino siamo scesi tutti quanti. Flash mob della caserma. Il tema era il camminare, il procedere. Eravamo tanti, non so quanti, ma tanti e camminavamo tutti insieme con lo stesso passo. Ogni tanto facevamo un passo più forte per terra che facevamo boom, boom, uno, due, tre. È stato bellissimo. Flash mob dell'India. Il tema era la tantezza. Questo è stato bellissimo. Pensate, in uno stesso stato, lo stesso giorno, la stessa ora, eravamo più di un miliardo di persone. È stata un'esperienza fantastica, tutti lì dentro, l'India, tutti quanti. Poi, doppio flash mob. Il tema era le creature del mare. C'erano delle sardine che avevano organizzato un flash mob dentro una scatoletta. Io sono arrivato, ho aperto la scatoletta e ho organizzato un flash mob dentro di me. Le ho messe tutte quante dentro mia bocca e le ho mangiate. Quindi, doppio flash mob delle sardine. Fantastico, un'esperienza bellissima anche questa. Altro flash mob alle poste. Flash mob delle poste. Il tema era insultare le vecchiette che fanno le finte tonte cercando di passare avanti alla fila. Eravamo tutti quanti, anche qui facevamo finta di essere tutti un po' arrabbiati. Insultavamo tutte quante le vecchiette che facevano le vaghe avanti. No, perché io devo solo chiedere una cosa. Sì, lei invece se ne va, dai. Però è stata un'esperienza bellissima. Un altro tema di questo flash mob era il parlare del meteo. Perché non del tempo, del meteo. Ma come fa caldo, ma come fa freddo. È stato bellissimo. Oppure anche del magna magna. Si parlava molto anche del magna magna. Bellissimo anche questo. Ultimo flash mob, un doppio flash mob anche questo. È stato veramente entusiasmante. Il flash mob del verano. Eravamo tutti quanti il 2 novembre l'abbiamo organizzato questo flash mob in un posto che sta a Roma che si chiama Verano, che è un cimitero, dove c'era già a prima di due un flash mob di morti. Noi abbiamo organizzato un flash mob di vivi insieme ai morti. Il tema infatti era la vita e la morte. Un terzo flash mob che si è aggiunto è stato il flash mob dei crisantemi. E poi tutti quanti via. Buonasera.